salve a tutti ragazzi da zebra è inutile zebra tanto non ci qualifichiamo è inutile tanto non andiamo è inutile è inutile è inutile ma prima di andare avanti ragazzi mi raccomando vi invito sempre a lasciare un bel like al video e iscriversi al canale se non ancora non l'hai fatto non ti costa nulla basta attivare la campanella non ti costa nulla ragazzi ma lasciatelo questo like e l'iscrizione chi non l'ha fatto grazie ragazzi io non sono d'accordo con voi quando mi venite a scrivere inutile tanto inutile che ti fa il veleno o il fegato amaro perché tanto non ci mandano o non ci qualifichiamo per la champions ragazzi non sono d'accordo perché noi usiamo un motto fino alla fine non a caso non usiamo quel tipo di motto perché è quella cosa che ti dà il corta forza il coraggio di andare avanti noi non dimentichiamo che stiamo attraversando un periodo negativo non solo a livello di campo ma soprattutto a livello di tribunali fuori dobbiamo lottare contro tutti e tutto noi tifosi e società juventus però che ci porta in avanti che ci dà la forza di guardare sempre lì si chiama obiettivo anche se non siamo sicuri che quell'obiettivo ci ci arriveremo occhio perché ancora ci stiamo lottando non siamo sicuri se quell'obiettivo ci rimarci farci ci faranno rimanere su quell'obiettivo a momento in cui lo raggiungeremo ma non possiamo mollarlo non si molla un centimetro perché quando tu competi in una competizione esistono degli obiettivi e tu comunque devi portare avanti perché questa competizione si spalma in tanti mesi che fai basta è finita dal momento in cui ci hanno ha cominciato tutta la bufera che fai ti fermi comunque non raggiungi quegli obiettivi è sbagliato è totalmente sbagliato l'abbiamo detto fin da principio ora che cosa è cambiato anzi cioè ricordiamo che qualche due settimane fa quando è stato già sette giorni venti giorni fa c'è stata una sentenza in cui la procura il collegio arbitrale del coni ha rimandato indietro il tutto quindi noi adesso siamo aspettando cosa le motivazioni bisognerà capire perché quali sono le linee guida cosa potrà accadere su quelle linee guida eventualmente la procura federale cosa deciderà mai tutto non si può chiudere e dire è finita no no perché una società ci ha investi ha investito in questa nel bene nel male ha investito c'è un obiettivo da raggiungere che la champions che significa guadagno per 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 la nostra società ok c'è di mezzo anche la wefa ma perché lottare fino a quando non c'è sentenza tu non sei fuori ti devi difendere devi dimostrare la tua innocenza poi se si è sbagliato va bene si accetta come abbiamo accettato nel 2000 nel 2006 e poi abbiamo abbiamo saputo tante cose cosa sono uscito fuori ma l'abbiamo accettato siamo ripartiti dalla serie b siamo tornati in a con difficoltà e poi c'è stata una ripartenza esplosiva che ci ha portato a dei risultati perché l'obiettivo era raggiungere quei risultati quindi in queste in generale nelle competizioni ma soprattutto nel calcio l'obiettivo è raggiungerlo ma se non hai quello ti mancano gli stimoli ti manca tutto in cui tu non puoi competere in una competizione quindi non puoi arrenderti non puoi dire finita no non lo accetto sono il primo a dire non accettarlo anzi forse dovremmo dire finita con questo allenatore con questo tipo di gioco con questo tipo di mentalità che abbiamo in campo lì possiamo dire forse veramente arrivato al momento di cambiare è finito ma non è finita la juventus non è finito gli obiettivi champion poi ci sbatteranno fuori va bene fa niente ma fin quando tu non hai la certezza che è finita veramente devi crederci sempre in quell'obiettivo è questa la juventus la stag fine fino alla fine è questo aspettiamo le motivazioni capiamo quale potrebbe essere la direzione la juventus comunque si difenderà si sta muovendo non è una società morta anzi è stata costituita questa società per garantire un futuro migliore per la juventus stessa società ecco perché credo che questo cdi acu rimarrà a tempo limitato sarà cambiato non lo so nel presidente questo non lo so ma credo che non non sarà questo il futuro sarà altro la juventus già è al lavoro quindi non possiamo arrenderci al primo ostacolo perché noi abbiamo visti tanti gli ostacoli tantissimi noi siamo la juventus ma qualsiasi squadra comunque raga parte juventus o non juventus qualsiasi squadra deve avere la forza di continuare e di credere in quegli obiettivi cioè abbiamo ancora abbiamo ancora un'europa league abbiamo ancora da giocare un'europa league che quello ti potrebbe dare eventualmente la vittoria e l'accesso alla champions ripeto a meno che però lì poi succederebbero un po' di casino un po' di casini raga perché tu vinci vinci che fai? cioè vince non va in champions cioè è tutto ancora da verificare tutto ancora da invenire poi tempistica tempistica dell'altra valutazione della procura siamo già a maggio bisogna capire quando effettivamente il tutto sarà concluso ci sarà una sentenza la juventus potrà rifare ancora di nuovo ricorso eventualmente se non dovesse andare come la juventus pea capite che ci sono i tempi che ancora sono lunghi poi bisogna capire la procura se sa che deve chiudere in tot tempo chiuderà in tot tempo ma ci sono dei tempi tecnici da rispettare quindi in un video che mi scrivete no è finita non è finito nulla poi se non ci credete chiudete tutto spegnete è finita pure per voi ma per me no anche se critico questa juventus anche se critico questa questa squadra impostata da un allenatore per me non degno più di rimanere sulla panchina della juventus però non è finita qui sono il primo a dire sono il primo a criticare molte critiche ma non sono il primo a dire che non è finita mi raccomando quindi ragazzi in conclusione cosa vi voglio dire aspettiamo calma prima obiettivo raggiungere il quarto posto e poi capiremo il nostro futuro ma sappiate che la juventus non muore mai con questo concludo mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima fino alla fine forza juve ciao ciao ciao